opera prima è lo stand di pizza ideale per le pizzerie che vogliono offrire pizze di alta qualità e artigianali per me il risultato è eccellente la pizza esce molto fragrante con bordo ben definito e diametro ben esteso come se l'avessi fatta con le mie mani è molto semplice da usare posiziono il panetto e premo il pulsante opera prima fa tutto da sola per me uno dei vantaggi è stendere l'impasto senza fatica evitando dolore alla schiena e le braccia riduco i tempi di lavorazione stendendo due o tre pizze al minuto ha un design moderno ed è bella da vedere soprattutto dove manca mano d'opera qualificata opera prima diventa un grande aiuto perché simula le mani di un pizzaiolo professionista